A ogni modo, oltretutto, tutto sommato e sicuramente, a grado di quello che potrete vedere questa sera, posso assicurare con la sua certezza e infermezza che i Mamadous e i canti pesanti sono più per parte, fatto da persone, tra persone, facciamo serie, con i lavori seri, con i figli a carico, con uno stupido in più di mese, insomma persone rispettabili, ad altro punto volevo introdurre un tema molto particolare, molto serio, potrebbe spargliare il benestare delle persone, insomma, il buono uomo delle persone, noi siamo troppo pacifizze, siamo contro l'uso delle arti, fish and love, andiamo a parlare appunto dell'uso delle arti in una situazione familiare molto particolare, tra i personaggi in una vita, sono lui, lei e l'altra, per te sapete il primo, non sbagliare! Non sentare il ruot di Chile, è una rabbia nata di Chile, posso assicurare? Non sentare il ruot 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 di Chile, posso assicurare? Perciò, ti prego andare, non scherzare per uscire, ma così non esercire, ma lasciandare. Perciò, ti prego andare, non scherzare per uscire, ma così non esercire, ma così non esercire, ma lasciandare. Grazie Epilogo Perciò Perciò E' uno di piccola, 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 un cugine sailing in a k Leo, a I mi checola, a a Y mi checola, a Y mi checola E' uno di piccola, 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 un cugine Oggi è nato il nostro voglio amore Oggi è ripeso ancora con me Ha svegliato, ho finito, ho finito, ho finito, ho finito, ho scusato E' di piccola, un punto piccola, piccolissima, così E' di piccola, 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 La vizionata, coccolata, l'altro bluira, la argolta, Ul established, Iau, la prima carta. Nicola, 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 sono così. E del niemino, sono stato avventato, ma è tutto azuleare, piccola, Nicola, Nicola, so così. Tu, ma di certo stigerebbe che c'è il primo, e amico, e io, ma te lo provavo per sentire. Poi un giorno, mi hai piantato, ero un tipo, si va parando, guardiamo il cazzo, mi hai scovato, lo guarda, si è sbagliato a quattro salate, ho servito, tu mi hai detto, ho disgraziato la pista. La pistola, ma hai puntato, vedo un colpo, hai sparato, che bell'uomo che sei, spara, e su, spara, spara. Un altro, un altro, un altro, e volete un altro? Colpo di grazia, spara! E pensare, è piccola! Piccola! Panto, piccola! Così! Grazie! Abbiamo più, negli altri pesanti, non sono orizzonti!